Lei poteva essere il Teramo dei sindaci, invece il sindaco di Teramo ed è un po' il Sant'Arcangelo del campionato, è così? Ma questo gioco di parole non mi mette un po' in difficoltà, io sono il sindaco di Teramo e questo è stato acclarato circa un anno fa dai cittadini terramani, poi tutto il resto fa parte della storia e degli avvenimenti che in questa città sono accaduti, stanno accadendo e accadranno in futuro. Battute a parte adesso, parliamo di cose serie, in sera c'è stata una riunione di maggioranza in vista di questo rimpasto, chiamiamolo così, o aggiornamento, rivisitazione della composizione della giunta, che cosa ne è venuto fuori? Ma devo dire una riunione positiva, molto dinamica, anche molto discussa, però positiva perché tutti hanno ribadito la volontà e la voglia di rilanciare l'attività amministrativa, tutti hanno ribadito il fatto di voler stare al di qua della linea, anche negli atteggiamenti, anche nelle posizioni, anche nelle espressioni più evidenti dell'attività di un'amministrazione comunale come l'attività di consigliare. Si è discusso, si è ribadito che questi tavoli, questo tavolo sia riconosciuto innanzitutto la presenza di una nuova forza politica, AN Fratelli d'Italia, si è ribadito che ogni 15 giorni ci si vedrà, si parlerà prima di temi, si parlerà prima di almeno 4-5 temi da mettere al centro del rilancio dell'attività amministrativa e subito dopo si farà anche la verifica di giunta. Questo ci dovrebbe portare più o meno al ridosso dell'estate, momento in cui, passato un anno, perché bisogna dare anche la possibilità ad assessori appena insediati, anche di nuove elezioni, di dimostrare la loro capacità e il loro valore, quindi un anno mi sembra un tempo minimo e quindi al ridosso dell'estate poi terminerà questa attività del tavolo politico che non finisce qui perché continuerà anche con la verifica di giunta. Qualcuno ha chiesto la riduzione del numero dei componenti della giunta da 9 a 7? È stato chiesto, è stato messo l'attenzione su questo aspetto un po' da tutti, ma io ho detto che sono pronto, la verifica vuol dire tutto, a 360 gradi, quindi vuol dire riduzione, le indennità, cioè vuol dire tutto, affronteremo questo problema e con grande serenità prenderemo una decisione.